Le stagioni teatrali dello Stabile, dello Sloveno e della Contrada sono già un terzo del loro percorso e quanto si è visto ha già dato un'indicazione di fondo. Ad oggi infatti gli spettacoli che hanno riscorso il successo maggiore sono stati quelli tratti da una forte base narrativa. I miserabili e il maestro e Margherita, tratti da due romanzi diversamente imponenti, rispettosi del testo letterario anche quando hanno dovuto gioco forza a sacrificarne parti abbondanti, hanno dimostrato che una rilettura saggia giova alla messa in scena, sopperendo la mannaia del taglio col racconto o grazie a puri e semplici giochi di teatro. Col teatro ha giocato benissimo anche Che Disastro di Commedia, divertendo il pubblico della Contrada dall'inizio alla fine. Pubblico che ha meno apprezzato giochi di prestigio perché un giallo strutturato come quello di Agatha Christie non può approdare sul palcoscenico senza risentire di un adattamento troppo spiccio. L'ironia di Milena Vukotic ha arricchito ulteriormente un autunno di fuoco, testo statunitense già di per sé in grado di addolcire una vicenda sulla carta foriera di Foschi Pensieri, laddove su un versante più disimpegnato basa banchi repete. Ha confermato l'intuizione di affidare ad Alessandro Fulin l'apertura di Stagione del Bobbio. Discorso a parte per Shakespeare, sempre una garanzia. Se però la versione in sardo dell'opera scozzese, straordinaria dal punto di vista visivo, a poco convinto causa una tendenza a ripetersi e a ridurre a sketch più di un episodio, la versione di misura per misura con Massimo Venturiello, ma soprattutto lo splendido amleto dello sloveno, uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni, confermano che il bardo, nelle mani di chi ci sa fare e ha coraggio, ha ancora tanto da dire.